Quella del porto di Pescara è una battaglia che va avanti, intanto l'autorità portuale è quella di Ancona e si attendeva quella di Civitavecchia, oggi si continua a parlare di quella che può essere una soluzione per tutto l'indotto che gira e ruota attorno a Pescara. Noi saremo, l'ho detto già pubblicamente, più che controllori, dipende da Ancona mantenere un equilibrio in questa mare centrale dell'Adriatico, equilibrio che significa? Che ogni euro speso va ripartito tra la portualità delle Marche e la portualità dell'Abruzzo. Quello che ci preoccupa, e Ancona deve garantircelo, però devo dire che stanno lavorando in questo senso, è che se tu attrezzi un porto, per esempio Ancona, in modo competitivo lo devi fare anche qui, poi ce la giochiamo alla competizione sul mercato e non rinunciamo alla nostra funzione trasversale, cioè di incrociare i traffici dall'est per portarli all'altra parte della sponda italiana, cioè sul terreno. E' chiaro che a Pescara quando si parla di porto c'è un certo sconforto, è innegabile. C'è un'economia che negli anni si è completamente depotenziata, hanno chiuso diverse imprese, molta gente ha perso il suo posto di lavoro. Ora da qui la necessità della Camera di Commercio, che rappresenta un po' la Camera di Commercio e la Casa delle Imprese, di rispingere ancora un'azione forte nei confronti delle istituzioni, perché tutto ciò trovi la parola fine, ma tutto questo deve essere assolutamente di una rapidità assoluta perché, le ribadisco, ci stiamo invecchiando discutendo di un porto che di fatto ormai da 9-10 anni non cambia le proprie condizioni di fruibilità. Al centro del tavolo l'autorità portuale di Ancona, questo sarà una responsabilità verso l'Abruzzo o una collaborazione? Qual è il futuro? Siamo sei porti, saremo sei porti tutti insieme per fare una strategia molto forte e una banchina virtuale di 215 km che parte da Pesaro e arriva a Ortona. Per cui c'è una grande opportunità per tutti noi per far crescere l'economia, per lavorare in sinergia, per sfruttare ed esaltare tutte le peculiarità dei vari porti, ma soprattutto per creare le premesse per aumentare l'occupazione.